Nell'esperimento di oggi abbiamo cercato di risalire alla tolleranza che abbiamo nella misura del volume di una pipetta, quella che sto disegnando, il volume è quello compreso tra le due tacche, per esempio una pipetta da 20 ml rega scritta una certa tolleranza, per esempio più o meno 0,03 ml, questa tolleranza corrisponde, o almeno dovrebbe corrispondere alla deviazione standard delle diverse pipette fabbricate dal fabbricante di queste pipette. La deviazione standard come viene calcolata dal fabbricante? Probabilmente ci sarà una misura automatica del volume effettivo che tra questi due segni viene determinato, quindi con qualche sistema automatico su un certo campione delle pipette che vengono fabbricate, probabilmente non su tutte, comunque costantemente vengono sottoposte a una prova un certo numero di pipette fabbricate per ogni partita, vengono fatte delle misure e vengono ottenuti questi valori esatti e si troverà che questi valori non sono tutti esattamente 20,00 ml, ma questo determinatore automatico di volume troverà che magari ci sono delle piccole differenze tra una pipetta e l'altra. Sulla base di queste differenze viene calcolata la deviazione standard e la deviazione standard viene riportata in questa maniera, viene espressa come un volume, un intervallo di confidenza che ci garantisce che in qualche modo il volume sia compreso tra 19,97 ml e il volume di questa pipetta e 20,03 ml. Quindi questo è l'intervallo di confidenza dichiarato dal costruttore, dal fabbricante di questa pipetta. Però quando noi abbiamo in mano una singola pipetta, questa singola pipetta avrà un singolo volume che sarà sperabilmente compreso all'interno di questo intervallo e quindi ognuno di voi questa mattina ha utilizzato una pipetta che aveva un certo valore di volume, diciamo il volume vero di quella pipetta che voi avete cercato di determinare. Come avete fatto a determinare questo valore del volume vero? Non certo facendo una singola misura, perché facendo una singola misura c'è l'errore diciamo del sperimentale che si compie, quindi bisogna fare più misure e poi fare la media tra queste misure, cercando di non introdurre errori sistematici come potrebbero essere, non so, per esempio, non utilizzare la seconda tacca qua sotto e svuotare completamente la pipetta e arrivare qui. Se tutte le misure che uno fa svuota la pipetta fino alla fine chiaramente verrà un volume di 21 ml in tutte queste misure. Quindi queste misure potranno essere molto precise ma la media che noi otterremo sarà di 21 ml, cioè diversa dal valore vero per il quale la pipetta è stata tarata. Allora dobbiamo fare le misure precise e utilizzando correttamente lo strumento, quindi tra le due tacche, leggendo i menischi sempre nella stessa maniera, cioè con la convestità tangente alle linee di riferimento, in questa maniera, abbiamo colore, altrimenti non si vede niente, quindi la lettura del menisco va fatta così, poi c'è la valutazione soggettiva, cioè quanto questa linea va a coincidere con la tacca, quanto deve rimanere sollevata, si fa in modo che sia la stessa valutazione soggettiva sia fatta in tutte e due le misure, sia sopra che sotto. Bene, allora come facciamo a conoscere la misura del volume effettivamente prelevato ogni volta che utilizziamo la pipetta? Dobbiamo ricorrere a uno strumento che ci dica il volume vero, uno strumento che ci dica un valore relativamente vero, è uno strumento più preciso della pipetta che è la bilancia con almeno quattro cifre significative, quindi per esempio la bilancia al centesimo di grammo ci dà una misurazione abbastanza certa, diciamo, della quantità di liquido in massa che noi abbiamo nella pipetta, quindi in base alla massa poi noi dobbiamo convertirla, questa massa dobbiamo convertirla in volume utilizzando la formula inversa della densità, quindi noi se vogliamo il volume dovremmo fare la massa fratto la densità dell'acqua a quella temperatura, perché la densità dell'acqua con tre cifre significative è 1,00, ma con grammi su millilitro, ma con tre o quattro cifre significative la cosa cambia perché per esempio a 20 gradi la densità dell'acqua diventa 0,998, e poi ci sono altre cifre grammi su millilitro, quindi per fare la conversione da massa a volume dobbiamo utilizzare questa formula. Bene, una volta che noi avremo pesato diverse volte il liquido prelevato dalla stessa pipetta, utilizzando sempre la stessa bilancia e sempre lo stesso contenitore che abbiamo precedentemente tarato e fatto la media di tutte queste pesate e trasformato la media nel volume utilizzando questa formula noi otterremo quindi il volume sperimentale della pipetta. Il volume sperimentale della pipetta sarà dato dalla media uguale, abbiamo fatto 7 pesate, abbiamo la massa 1 più la massa 2 più eccetera eccetera fino alla massa 7 e poi dividiamo questa per la densità e ci ricaviamo il volume sperimentale come media, ma allora perché facciamo anche la deviazione standard? Se noi facciamo anche la deviazione standard di tutte queste nostre pesate per valutare la nostra precisione, perché se noi utilizziamo sempre lo stesso metodo con molta precisione, noi dovremmo ottenere sempre lo stesso peso, quindi è importante utilizzare le pipette con una buona precisione e quindi è importante conoscere la precisione con cui noi abbiamo determinato il volume sperimentale di questa pipetta da 20 millilitri. Se questo volume differisce dal volume nominale di una quantità superiore a quella che è la tolleranza, per esempio se noi troviamo che questo volume sperimentale di 20,12 millilitri e quindi siamo andati ben al di fuori di questo intervallo. Noi dobbiamo sospettare che la nostra misura è affetta da un errore sistematico oppure possiamo anche sospettare che il nostro fabbricante di pipette ci abbia ingannato. Per sapere quale delle due opzioni è giusta, noi dobbiamo conoscere la deviazione standard. Se noi abbiamo fatto delle misure molto simili le une alle altre e abbiamo ottenuto come media questo valore, allora noi siamo propensi a pensare che il fabbricante abbia imbrogliato nel fornirci il valore della pipetta. Se invece noi troviamo questo valore ma con una variabilità molto grande per cui la media è questa ma abbiamo una deviazione standard di 0,2 quindi significa che le nostre misure vanno sono comprese all'interno di un intervallo che va da 19,92 fino a 20,32. Allora non dipende tanto dal fabbricante della pipetta quanto dipende dal fatto che noi stiamo facendo delle misure dei prelievi troppo diversi, stiamo utilizzando male questa pipetta. Facciamo degli errori casuali forse non sistematici ma facciamo degli errori casuali troppo grandi per cui il valore vero della pipetta sarà abbastanza diverso da questa media che noi abbiamo trovato. Potremmo compensare continuando a prelevare male ma facendo invece che 7 misure magari 70 misure e allora troveremo che questo valore si avvicina a 20,0 però sarebbe preferibile fare meglio le nostre pipettate, i nostri prelievi. Bene allora e la deviazione standard come si calcola? La deviazione standard delle nostre misure o in qualsiasi altro caso si calcola andando dopo aver calcolato la media prendendo i volumi di ogni determinazione o diciamo i valori chiamiamoli x quindi possono essere volumi, masse, concentrazioni, concentrazioni, qualsiasi cosa. I valori x meno il valore medio, queste differenze sono a volte positive a volte negative però elevandole alla seconda diventano tutte positive. Si sommano tutti questi valori il simbolo per la somma di tutti gli scarti quadratici quindi questo sarebbe lo scarto quadratico dal primo fino al dal primo fino all'ennesimo si sommano tutti abbiamo fatto n misure e se noi avessimo tutta la popolazione dei dati potremmo fare la media di questi scarti quadratici e la media degli scarti quadratici si otterrebbe sommandoli e dividendo per il numero delle misure. Siccome noi stiamo facendo una stima della deviazione standard di una popolazione che in realtà è infinita perché noi potremmo ripettare un qualunque numero di qualunque numero di volte questo volume è anche un numero infinito di volte quindi noi diciamo la regola matematica è di dividere questo per il numero di misure meno 1 così da ottenere un valore un po' più grande rispetto alla media degli scarti quadratici perché stiamo dividendo per un numero più piccolo di 1 e questa stima della deviazione standard viene chiamata S diciamo la deviazione standard sarà quella che otterremo facendo la radice quadrata di tutto ciò allora questa che noi abbiamo ottenuto in questo modo è il quadrato della deviazione standard che viene chiamata anche varianza quindi facendo la radice quadrata di tutto questo noi otteniamo la vera deviazione standard che sarà quindi data dalla somma di scarti quadratici che sarà quindi data dalla somma di scarti quadratici tutto sotto radice quadrata quindi facciamo la radice quadrata gli scarti quadratici delle nostre misure meno x meglio elevato al quadrato fatto n meno 1 questo qui questa radice quadrata ci da la stima della deviazione standard per una popolazione di cui noi conosciamo solo un campione una parte diciamo della popolazione totale di valori bene adesso passiamo a vedere come introdurre tutta questa cosa nel nostro grafico anzi nel nostro foglio elettronico foglio di calcolo